Com'era nelle previsioni, Raffaello Fico è ufficialmente il nuovo titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, l'USRC. La bollinatura da parte della Corte dei Conti, infatti, è arrivata nei giorni scorsi. Ora Fico, che era stato nominato anche al vertice del settore della ricostruzione privata in seno al Comune dell'Aquila, dovrà essere sostituito nel suo ruolo, scorrendo la graduatoria degli idonei. Fico, che prenderà servizio nei prossimi giorni nell'ufficio a Fossa, è funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già funzionario tra l'altro dell'USRC, ha avuto la meglio rispetto agli altri due pretendenti, Alessia Placidi, responsabile di inizia scolastica USRC, e l'ingegner Sergio De Paulis, ex presidente anni fa della municipalizzata AMA del Comune dell'Aquila. Rimane ora da scegliere l'altro titolare dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione del Comune dell'Aquila, all'USDRA decade come titolare OSRC facente funzione, Giovanni Francesco Lucarelli, che era stato nominato, come si ricorderà dal Governo, titolare ad interim sino al 31 gennaio, per superare l'impasse che di fatto ha bloccato per molto tempo la ricostruzione dal punto di vista amministrativo. È stato infatti Lucarelli, in questo frangente, a sbloccare i pagamenti e a firmare gli stati di avanzamento dei lavori.